La buona notizia è che i pescatori di Mazzara del Vallo, dopo 108 giorni, sono finalmente liberi. La cattiva notizia è che per liberarli l'Italia è stata costretta ad umiliarsi davanti al signore della guerra libico Neftar, pur di inscenare una liberazione che serviva molto al quadro interno. Conte ha avuto la scusa per posticipare l'incontro con Renzi ed offruscare le proposte di Italia Viva per non fare cadere al governo, e ha visto il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri di una potenza mondiale del G7 umiliarsi davanti al sanguinario maresciallo. Conte è stato costretto a volare di persona a Benghazi, a concedere la passerella ad Aftar, e ha costretto Di Maio a subire la mortificazione con lui. Con questo rapimento Aftar ha ottenuto un riconoscimento politico e, secondo la versione libica, anche delle scuse ufficiali, oltre all'impegno che non avvengano altre violazioni era il primo settembre quando i due peschereci Antartide e Medinea, con a bordo i 18 pescatori, 8 italiani, Sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi, sono stato sequestrati da motovedette delle milizie di Aftar a circa 80 miglia dalla costa di Benghazi. L'accusa, avere violato le acque territoriali, pescando all'interno di quella che i libici ritengono un'area di loro pertinenza. Nei giorni seguenti le milizie di Aftar hanno contestato, in modo del tutto infondato, anche il traffico di droga. Trattativa complicata dal fatto che la cattura non era stata effettuata dal governo di Tripoli di Al Serraio, riconosciuto dall'Italia e da gran parte della comunità internazionale. I libici hanno anche chiesto la liberazione di quattro scafisti condannati in Italia per una traversata in cui morirono 49 migranti e i 18 pescatori ieri sono ripartiti verso casa sui due pescherecci. Dopo aver risolto un problema all'Antartide, il motore non partiva perché le batterie si erano scaricate. Sono attesi al porto di Mazzara del Vallo per domani sera. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS